Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e di spesa sanitaria nei paesi ricchi. Alcune di queste affondano le radici nell'infanzia. Si calcola che in Italia un bambino su dieci nasca con un difetto cardiaco. Alcuni sono gravi ma molti non lo sono. Possono comportare una formazione anomala delle pareti del cuore, delle valvole cardiache o dei vasi sanguigni che entrano o escono dal cuore. In ogni caso è importante individuare i difetti cardiaci al più presto, prestando attenzione a segnali quali l'affanno, il dolore al petto, le palpitazioni e la scarsa resistenza allo sforzo fisico. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top prodotto da Little Press Daniela Massari, cardiologa pediatrica all'ospedale San Pio X di Milano. Una mamma che segni deve guardare per pensare di avere dei sospetti che ci sia qualcosa di cardiologico? Allora, se ha tra le braccia un neonato deve stare attento che cresca regolarmente, che non si affatichi quando mangia, che non diventi cianotico o improvvisamente pallido, che non sia polipnoico, che non respiri troppo frequentemente e male, che non abbia cianosi, che non diventi blu o che non abbia dei momenti di pallore improvviso. Queste cose chiaramente sono dei segnali del male. E quali sono le malattie più gravi che possono interessare di tipo cardiologico, danni i bambini? Abbiamo un'immagine che magari la regia ci manda e la vediamo su questa immagine. Dunque, anche qui bisognerebbe fare una distinzione sempre per fasce d'età. Direi che come valore assoluto le malattie più serie sono sempre le cardiopatie congenite. Questa è un'immagine di un cuore con tutte le sue strutture. potete immaginare come sia estremamente variegato lo spettro possibile delle malformazioni cardiache. I problemi legati alle cardiopatie pungente possono essere diametramenti opposti, cioè cardiopatie che determinano l'arrivo di troppo sangue nei polmoni e cardiopatie che determinano l'arrivo di troppo poco sangue nei polmoni, cioè quelle cianogene e quelle che danno in realtà un iperaclusso. Quindi numericamente sono sicuramente quelle che determinano le maggiori urgenze dalla nascita al primo anno di vita. Poi più ci spostiamo nella fascia verso l'età scolare e adolescenziale, chiaramente la diagnosi se c'è una cardiopatia congenite è stata fatta, mentre invece emergono le aritmie, le cardiomiopatie, cioè le malattie del cuore come muscolo, oppure le pericarditi, le miocarditi, cioè la malattia reumatica, cioè le malattie che si possono acquisire.